Lei è una commerciante di Scafati. Cosa ne pensi di questa cosa? Guardate un po' che sta succedendo a Scafati, al 28 di Scafati precisamente. Signor Sindaco, guardate che panorammo, panorita azzurra. Guardate, lei fa le foto. A chi dobbiamo ringraziare per sta cosa? Lui è un cliente del bar. Aspettate un attimo, voi ve ne dovete andare. Come ve ne andate? Con la macchina. Come uscite fuori? Con la barchetella? No, la barchetella. Aspetto a scuola che passa qua. Salutate il Sindaco, diteglielo anche voi, Pasquale Alberti. Pasquale Alberti. È uno buono? È uno buono. Per fare questo, è uno positivo. Guardate le macchine, le ruote delle macchine. Guardate, guardate la mano. Ma il signore sta consumando qua il bar. Dopo se ne deve andare, voglio capire. Ma il signore è vero?